Antonio Di Stazio, l'ex vigilante arrestato per il maxifurto di oro a Baglia Alpino, alle porte di Arezzo, ha tenuto una condotta sfacciatamente spregiudicata, tradendo la fiducia che l'azienda aveva riposto in lui, colui che avrebbe dovuto custodire e tutelare il bene prezioso che stava trasportando, ossia leverghi in oro dal valore di oltre 4 milioni di euro. In fine Di Stazio sa che fine abbia fatto l'ingente bottino. Queste le motivazioni che hanno portato il giudice del Tribunale di Arezzo Giovanni Fruganti ad emettere la sentenza di condanna a 4 anni e mezzo di reclusione con il risarcimento all'istituto di vigilanza per il quale prestava servizio e la confisca di quasi 2 mila euro trovati nelle sue tasche al momento dell'arresto. Il furto risale allo scorso 11 luglio quando Antonio Di Stazio prelevò l'oro dal furgone blindato della Securpol. Il vigilante scomparva assieme al metallo prezioso per poi presentarsi con il suo legale qualche giorno dopo ai carabinieri di Lucca. Per lui scattò così l'arresto per furto pluriaggravato. Dell'oro invece nessuna traccia ancora ad oggi. Per il giudice Fruganti il colpo messo a segno dall'ex vigilante fu ben studiato. Non si trattò infatti di un'azione estemporanea, bensì con un'adeguata organizzazione di fondo. Palese per il giudice anche la presenza di almeno un complice coperto sino ad oggi da Di Stazio. Il portellone infatti si aprì prima della presenza.